Oggi tutto è bello, fiori, vestito, locale e adesso, dinanzi all'altare del Signore, per consacrare la loro vita per sempre. Loro sanno bene in questi anni quanto si sono voluti bene, ma adesso il loro voler bene diventa ancora di più segno, perché adesso è vivere nel sacramento. Allora chiediamo alla Madonna Santissima, benedica e conceda a voi le grazie che il vostro cuore desiderà ricevere. A presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giulio, come tuo sposo, con la grazia di Cristo, promette di essere fedeli a Lui nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, amarlo, rispettarlo tutti i giorni della tua vita? Sì, lo voglio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.